Tifosi arancionieri, weekend molto positivo per la Sertecco, è arrivata una vittoria importantissima contro la Capolista in un derby sentito contro Norma che ne parliamo con Camilla Sergio Impietra che era poi oggi, ciao ragazze Ciao a tutti Allora partiamo con Camilla, Camilla una bellissima vittoria, netto 3-0 in un derby molto sentito, una grande soddisfazione Sì sì, assolutamente una grandissima soddisfazione, anche rispetto all'andata penso si sia vista la nostra crescita sia tecnica ma soprattutto anche a livello mentale nella gestione della partita Siamo riuscite ad essere incisive e diciamo che possiamo ritenerci molto molto soddisfatti di questa nostra crescita e soprattutto anche nell'ultimo set, nel momento di difficoltà, siamo riuscite a rimanere lucide e ci siamo portate a casa una bella soddisfazione e un gran bel risultato Chiara, passando alla prossima partita, giocherete ancora qui al Palafigoi contro il livello La Volley, che sfida ti aspetti? Allora sicuramente sarà la partita che deciderà un po' la classifica perché veramente siamo tutte e tutte lì Devo dire che sarà una partita molto complicata, come ovviamente lo sono state tutte quelle del nostro girone quindi dobbiamo cercare di mantenere sempre la concentrazione e continuare con questa nostra scia positiva e cercare sempre di fare meglio Quindi comunque siamo un gruppo giovane e quindi dobbiamo sempre crescere e partire da due partite Vi ringrazio ragazzi, bocca al lupo, alla prossima! Grazie, grazie!